Prima partita per l'Amen Scuola Baschetta Rezzo dopo l'esonero di Delia con la squadra affidata al suo vice Mirko Pasquinuzzi. Ammensba che era di scena nello storico parquet del Palacosmelli di Livorno per affrontare i padroni di casa del brusa Unione Sportiva Livorno. L'Amenba cercava un risultato che potesse far invertire la tendenza negativa degli ultimi risultati contro un avversario ostico e storicamente duro per l'Amen che anche nella passata stagione era caduta in trasferta contro il brusa. Due squadre accomunate proprio dal cambio di allenatore visto che nei labronici Cerri è subentrato a San. La sbadova a fare attenzione soprattutto a Brunelli e seminare i migliori realizzatori del brusa entrambi sopra i 10 punti di realizzazione a partita prima di questo match. E la risposta anche di carattere che ci si attendeva dalla squadra è finalmente arrivata con una partita condotta dall'inizio in modo abbastanza deciso. Intervallo lungo a favore della SBA 56 a 41 vittoria finale netta 92 a 70. L'Amen SBA sale dunque a 12 punti in classifica sperando che sia davvero alla volta buona per un cambio di passo per posare dunque la pietra di quella che tutti speriamo essere la risalita. Grazie a tutti.